Il rapinatore si lamenta, bloccato a terra da quattro persone, e chiede pietà. Sono peccato, dice. L'altro è già scappato a piedi sotto i portici, facendo lo slalom tra le famiglie che passeggiano davanti alle vetrine, ma verrà catturato nel corso della notte dalla polizia. Sul pavimento restano una pistola, uno scaldacollo usato come passamontagna e un telefono cellulare. Fallisce il colpo nella gioielleria più centrale di Brindisi, Anna Longo, quella che si affaccia sul palazzo di città. Quando mancavano 20 minuti alle 8 di sabato sera, due rapinatori hanno tentato la sorte, facendo irruzione armati di pistola a pochi metri dai tavolini delle note Canelli, affollati da decine di avventori che consumavano un aperitivo. Nella gioielleria c'era la titolare. La donna ha cercato di fuggire verso l'esterno, nonostante il tentativo dei due di bloccarla. Sono partiti anche alcuni colpi di pistola, un'arma giocattolo, riproduzione di un revolver. Fuori c'era però il figlio della titolare. Il ragazzo con grande coraggio ha preso una sedia che si trovava davanti all'ingresso e ha colpito uno dei banditi. L'altro è scappato, dopo aver preso il registratore di cassa che era vuoto, facendo perdere per qualche ora le tracce. Mentre decine di persone, terrorizzate, abbandonavano i tavolini e si riversavano per strada, alcuni ragazzi hanno dato manforte al figlio della titolare, circondando e immobilizzando a terra il rapinatore sanguinante. Pochi minuti dopo, l'uomo, un 37enne brindisino, è stato preso in consegna dalla polizia e affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti con un'ambulanza. Poi, in stato d'arresto per rapina aggravata e scortato dagli agenti, il malvivente è stato accompagnato al pronto soccorso dove è stato medicato. Il secondo rapinatore, anche egli brindisino, di 26 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile nel corso della notte. Si era rifugiato nella sua abitazione in una zona impervia delle campagne leccesi. Entrambi i malviventi sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Brindisi. Otto anni fa la stessa gioielleria fu presa di mira da un'altra banda. Anche in quel caso, i rapinatori però andò male. A reagire fu Vittorio Bianco, il titolare, sempre con una sedia utilizzata come arma di difesa. La rapina fallì e uno dei malviventi fu catturato.